Domenica 19 giugno Arieta è replica della giornata precedente con la luna ancora al vostro fianco, brillanti ottimisti affrontate con un sorriso anche le questioni più spinose. Tempo permettendo organizzate una gita al mare, un picnic all'aria aperta, sarà un vero successo. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del silenzio astrale e di questo giorno di festa per riflettere e per ricaricarvi, grazie a nuovi incontri, eccellenti promesse per chi ha il cuore libero, turbulenze nel menage di Coppia. Gemelli, continuando a farvi dispetti, la luna in Sagittario ce la mette tutta per intralciare con una serie di disguidi gli eventuali viaggi e le partenze. In treno e nei luoghi più affollati tenete sott'occhio portafogli e cellulare, sono a rischio di smarrimento. Cancro, canalizzate la vostra energia verso un unico obiettivo e procedete con calma, eviterete dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettete troppa carne al fuoco se non volete trovarvi poi in affanno nel gestire le incombenze. Leone, se siete in viaggio o in famiglia diventate una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettete la vostra energia al servizio del sociale e circondatevi di persone animate dallo stesso interesse. Vergine, non sarà un giorno riposante, zeppo o comedi, imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico vi aiuterà a riprendere in mano il controllo della situazione. Bilancia, una domenica dal ritmo vivace, messaggera di inviti e sorprese. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici per aggiornarvi sulle ultime novità. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarvi un'emozionante avventura. Scorpione, le geometrie planetarie della giornata sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un buon momento. Buone notizie e cambi di scena. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da guadagnarvi i complimenti di tutti. Sagittario, il partner regalama attenzioni, ma siete troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizza e capricci da non sottovalutare. Dalla vostra avete tempismo e colpo d'occhio, muovetevi con disinvoltura e coglierete i successi che meritate. Capricorno, nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete ricolmi di energia, pronti a mettere al tappeto gli avversari e imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete considerare anche le opinioni altrui. Acquario, ancora una giornata divertente in virtù della luna in sagittario, una gita, una sorpresa da parte di una persona cara, una cena tra amici. Bene i contatti, gli studi, viaggi e non incontri. Fate un salto in discoteca, una festa in piazza. Pesci, la domenica non si preannuncia delle più severe, con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, le reazioni sono complicate, disaccordi con il partner provocano qualche difficoltà nell'organizzazione delle vacanze e di un viaggio. Grazie per la visione!